Sono Antonio Deruda, sono uno dei docenti della SIOI, insegno diverse materie legate alla comunicazione internazionale e una materia in particolare la diplomazia digitale, ovvero l'utilizzo del web e dei social media da parte dei governi e delle organizzazioni nell'ambito internazionale. Durante le mie classi cerchiamo di analizzare soprattutto casi di studio per rendere praticamente le classi dei veri e propri laboratori nei quali i partecipanti possono apprendere come il web e i social media stanno cambiando profondamente l'ecosistema mediatico. Oggi le competenze che servono per lavorare nell'ambito delle relazioni internazionali sono molteplici. Per un comunicatore sicuramente è fondamentale la conoscenza della geopolitica, delle materie legate alle relazioni internazionali, così come la conoscenza di più lingue, ma anche e soprattutto la conoscenza delle nuove piattaforme digitali, avere anche delle competenze multimediali. Per chi invece vuole intraprendere altri tipi di professione è comunque importante oggi capire come navigare in maniera più consapevole, come monitorare il web, come filtrare le notizie e come eventualmente anche confezionare i messaggi più adatti per il pubblico online. Per questo motivo la Sioi negli ultimi anni ha deciso di inserire la comunicazione in tutti i master per arricchire la propria offerta formativa ed adattarla alle nuove sfide del mercato del lavoro globale.